oggi mi devi aiutare perché ieri mi hanno fatto guardare temptation island e ho perso 10 milioni di neuroni durante il processo veramente c'è proprio una cosa che tu all'inizio sei disgustato cioè proprio i primi tre minuti sei profondamente inorridisci proprio guardandolo poi quello che succede è che appunto con un effetto domino comincia a ucciderti milioni e milioni di neuroni fino a che il tuo quotiente intellettivo si abbassa al punto giusto che ti piace hai capito infatti è fatto apposta è un servizio di pubblica utilità perché così come la pillola quella là che ti fa usare solo il 2 per cento della tua potenziale del cervello non ti ricordi esatto esatto c'è praticamente è un tu lo guardi mai no io non ho proprio la tv non riesco ad avere quell'elettrodomestico in casa quindi non seguo il proiettore c'è il proiettore ma non avendo sai la comodità di buttarsi sul divano pigiare un tasto a cazzo sul telecomando alla fine non guardo al massimo le serie tv ho capito capito ecco perché sei così intelligente perché ancora non è però guarda che se dovesse farti soffrire qualcosa nella vita è un sostituto molto più economico alla terapia cioè tu anziché pagare un analista guardi temptation island così il tuo quotiente intellettivo scende e la tua vita ti sorride esatto è una bella idea è una sorta di sedazione autosedazione è con l'austerity che ci aspetta inesorabilmente guarda che secondo me è un'ottima soluzione prima o poi qualcuno la proporrà ufficialmente del resto ragazzi tenetevi tutti pronti allacciatevi le cinture di sicurezza perché stiamo per traghettarvi in idiocracy 2024 2 2 4 3 5 4 5 3 6 benvenuti amici benvenuti come era useful idiot siamo noi useful idiots tutti noi ciao guy brush sono tornà sono tornà bene o male basta devi andare ancora in giro un pochino un pochino un po' di qui un po' di là un po' di su un po' di giù abbiamo un po' di nuovi programmi in arrivo con gli explorers big things ragazzi chi si ferma è perduto e infatti noi come ogni giovedì alle ore 17 siamo qui guy brush puntata numero 36 della sesta stagione proprio così amico mio proprio così abbiamo una quantità industriale di notiziuole brevi ma importanti e quindi questa sarà una puntata direi particolarmente dinamica ma anche guy brush se posso permettermi particolarmente lol non tanto nel senso comico puro no tragicomico bravo bravo siamo proprio nella tragicomedia perché qua ci sono veramente delle robe che tu accendi il tuo news feed la mattina e non sai se devi ridere o aprire il gas senza la fiamma hai capito volevo dirti questo perché nonostante io non abbia la tv secondo me i neuroni li perdo anche semplicemente aprendo il browser e leggendo le cose che vengono scritte quindi ormai viva la fi vl fi per esempio il primo w w l f io quando l'ho visto per la prima volta ho pensato è tornato valentino rossi con il suo famoso acronimo viva la figa e invece no e invece no è il donaldone nazionale anzi internazionale che arriva ufficialmente il bitcoin president tra le altre cose come incipit di questo episodio mi piace tantissimo leggervi il tweet di calle uno dei nostri bitcoin developer e bitcoiner preferiti che twitta pochi minuti fa rispetto a quando stiamo registrando le mie condoglianze a tutti i bitcoiner che hanno sostenuto un candidato presidenziale che ora è ufficialmente uno shitcoiner truffatore completamente ritardato grazie agli ultimi avvenimenti ho ottenuto questo importante attestato di shitcoiner ritardato questo importantissimo titolo che cosa è successo guybrush c'è stato il lancio in pompa magna del tokenone defi vl fi viva la fi no world world liberty financial esatto e praticamente era fatto apposta c'è poteva chiamarlo culo anche tipo currency unite unique tette culo perché sai che culo solo è troppo inclusivo non sia mai che la community lgbt sai che lui grabba la pussy grabba solo la pussy il culo ce l'hanno tutti le tette no quindi era più appunto appunto vabbè donaldone lancia il suo shitcoin token dimostrando al mondo qualora non fossero bastati gli nft suoi quelli di melania trump le minchiate pazzesche però qualcuno nella nostra community è talmente scemo da avere salutato il suo speech lo ve lo abbiamo raccontato no alla più grande bitcoin conference americana come una svolta epocale come il candidato bitcoin finalmente abbiamo un bitcoin president altro che buchi e invece donaldone nazionale lancia il suo token defi web 3 e lancia andato guybrush talmente bene che il world liberty financial token è questa la notizia che commentiamo ha crashato praticamente al minuto 1 hai capito allora aspetta ho guardato bene in realtà è un token stupidissimo su ethereum è crashato proprio tutta la piattaforma web tra il suo sitino con il collegamento non ha funzionato dicono che su 100.000 che erano nella white list delle prime emissioni sono riuscito a distribuirlo solo a qualche migliaia insomma bellissimo crasha tutta la piattaforma un grande esempio di tecnologia di come questa tecnologia cambia il mondo loro si affrettano a dire che la piattaforma è crashata per eccesso di domanda e in effetti guybrush bisogna dire che benvenuti in idiocrasi 100.000 coglioni che si vogliono comprare sta merda cioè è un risultato ragguardevole capisci trovare 100.000 sodomiti che vogliono disperatamente farsi scammare purtroppo tanto da essere lì al lancio di un'inutilità del genere è davvero notevole aspetta che guardo gli ascolti di temptation island esattamente per vedere se c'è una correlazione tra i 100.000 di temptation island bravissimo però in realtà questa notizia appunto eccesso di domanda sembra essere poco attendibile dato che il crash si è prorogato per tantissime tantissime ore e quindi i più esperti nell'ecosistema scam coin ethereum eccetera eccetera cominciano a sospettare sospettano fortemente che il problema sia strutturale proprio e che quindi la piattaforma DeFi che secondo il figlio di Donaldone un altro illuminato sarebbe stata destinata a diventare lo sportello unico per la DeFi in tutto il mondo evidentemente con qualche migliaio di utenti è andata giù come la peracotta aspettiamo aspetta il mondo aspetta trepidamente che qualche delucidazione rispetto all'epic fail di cui vi stiamo raccontando ma nessuna dichiarazione dal Donaldone nazionale né dal suo staff e quindi insomma ragazzi chi lo sa come andrà a finire posso dire Guybrush mega lol mega lol soprattutto vabbè a parte l'aspetto tecnico che è imbarazzante ma anche tutto all'entusiasmo come dicevi tu all'inizio sul fatto che ha bitcoin president alla fine come vi avevamo anche detto tempo fa il politicone di turno vuole solo cercare di raccogliere voti aizzando un pochettino il tifo e tutta la parte che non c'entra proprio nulla con quello che vi raccontiamo noi della tecnologia bitcoin se non c'è questo come prova non vedo come altro che cos'altro debba succedere ma ma c'è poco da ridere toglietevi subito cari amici quel sorriso ironico e beffardo che avete sulle labbra perché idiocracy non è mica solo negli United States of America ma è pure qua da noi eh sì eh sì politicone che anche qua ha fatto un endorsement all'inizio mi capisci i liberaloni i liberaloni i liberaloni italiani questa è una notizia che commentiamo freschissima ragazzi è stata battuta poche minuti fa dall'Ansa vi lasciamo il link in realtà è una nota stringatissima del uscita pubblicata oltre che a Ansa subito ribattuta dal sole 24 ore perché di notizia economica trattasi conferenza stampa del vice ministro dell'economia italiana sentendo ovviamente Maurizio Leo che spiega nel dettaglio la manovra 2025 e quindi presenta sostanzialmente le misure approvate martedì sera in consiglio dei ministri misure draconiane che servono o dovrebbero servire secondo appunto idiocrasi per sostenere gli interventi a favore di famiglie giovani e imprese Guybrush la Meloni che ha vinto le elezioni promettendo agli italiani noi non alzeremo le tasse perché così si dà uno stimolo alle imprese esatto vabbè il ministro Leo anzi il vice ministro dell'economia Maurizio Leo annuncia che la ritenuta sulle plusvalenze di bitcoin e credo proprio delle criptovalute anche se questo non l'ha specificato per le plusvalenze da bitcoin lo cito prevediamo un aumento della ritenuta dal 26% al 42% ma come 42% 42% questi sono scemi nella testa hai capito questi sono scemi nella testa quara le plusvalenze vi abbiamo già raccontato benissimo come funziona la legge Meloni sulle criptovalute la peggiore legge del mondo ve l'ha raccontata il nostro esperto Gigi Turla andate a riprendervi la puntata della scorsa stagione è la numero 5 della quinta stagione la voce del padrone tasse e bitcoin dove appunto è rimasta attuale fino a attualissima perché comunque la legge l'impianto dell'ottima legge del governone Meloni rimane sempre lo stesso ricordatevi ragazzi sul sito bip.show c'è la funzione cerca per trovare le puntate dove trattiamo argomenti specifici per esempio volete sapere come funziona la tassazione in Italia andate su bip.show cliccate in alto a destra su cerca c'è la solita lente quella che significa cerca digitate tasse e il nostro sito vi restituisce tutte le puntate in cui vi spieghiamo come funzionano le tasse e le leggi in Italia e quindi la plusvalenza quindi quando finché noi rimaniamo in bitcoin tutto è ok quando noi vendiamo bitcoin per tornare in euro in quel caso lì fino a ieri c'era da pagare il 26% di tasse sulla plusvalenza quindi sulla crescita di valore di bitcoin rispetto a quando l'abbiamo abbiamo acquistato da adesso in poi questa liquota passa al 42% quasi raddoppia poco in poco ci manca insomma Guybrush a me la cosa che fa ridere è che questa cosa qui viene inserita all'interno di un pacchetto che dovrebbe secondo le intenzioni di questi idioti acquisire un extragetto fiscale da voler essere impiegato per sostenere famiglie giovani e imprese cioè capisci tu anziché sostenere le imprese che lavorano in un settore tecnologico assolutamente innovativo come bitcoin stimolare nuovi imprenditori a creare aziende ad avere bitcoin perché è un settore che sta esplodendo in tutto il mondo gli tagli le gambe con un'iniziativa di questo tipo amico mio cosa vuoi che ti dica allora io ho anche un'altra cosa da dire cioè c'è un cortocircuito mentale una dicotomia clamorosa su come bitcoin viene considerato qui da noi come viene considerato in altre parti del mondo perché portare l'aliquota sulla plusvalenza al 42% significa metterlo sullo stesso piano di investimenti fortemente speculativi il cosiddetto capital gain azioni borsa derivati titoli cose di questo genere mentre sappiamo benissimo perché come lo raccontiamo bitcoin è una nuova forma di denaro non è una forma di investimento può essere una forma di investimento come lo può essere qualsiasi cosa ma lascia perdere noi persino la SEC lo definisce una commodity esatto e quindi paragonabile al petrolio all'acciaio al gas all'oro all'argento ma è proprio un autogol pazzesco normativo che ci mette in condizione di non poter sviluppare nessun tipo di azienda seria sul territorio perché chi cazzo è che viene adesso a fare un'azienda con il bilancio in bitcoin in un posto in cui devi pagare il 42% di tasse se per caso devi uscire in euro o ricordiamoci sempre nella puntata con Gigi Turla anche un acquisto quindi un pagamento diretto di un bene viene considerato una vendita di bitcoin in euro anche se io raga è una roba veramente penosa 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 a proposito di pene andiamo avanti con le notizie sul pene c'è il ritorno di una testa di pene è lui o non è lui io davo proprio per spacciato morto ormai ho detto non ne parleremo mai più e invece io non capisco come funziona la legge non capisco come funzionano le legislazioni in giro per il mondo ma anche in generale il concetto di legge non lo capisco perché ritorna incredibilmente Craig Wright dopo le figure di Popò fatte vi ricordate l'hanno costretto a scrivere per tre mesi non sono Craig Wright adesso è stato memato dappertutto perché siamo tutti Satoshi Nakamoto tranne che Craig Wright perché è l'unica persona del mondo ad avere una sentenza che lo definisce che non è possibile che sia lui nonostante tutto questo nonostante il fallimento totale di tutti i suoi tentativi a quanto pare è riuscito o può comunque in ogni caso rifare causa a fare un cosiddetto money claim io sono andato a guardare che cazzo è questa roba ma contro chi adesso te lo dico praticamente è ridicolo la cifra perché lui reclama 911 miliardi di sterline ah beh niente allora c'è questo sito che è moneyclaim .gov.uk che è un terminale un sito internet nel quale tu puoi fare un reclamo e puoi andare lì e dire ok questa persona questa entità mi devono questi soldi per questo questo e quest'altro motivo e dici le tue ragioni dopo da lì non so che come sia la procedura legale se parte di ufficio un'indagine o se tu devi comunque cercare di portare in tribunale comunque il suo claim è questo lui fa causa a bitcoin core così generico leggendo leggendo il 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 suo claim cioè bitcoin core c'è il software proprio hai capito non lo so bitcoin core quindi si si deduce i i sviluppatori e qua come si fa chiunque abbia fatto una pull request o una modifica su github come si farà a capire a chi vabbè bitcoin core e poi la square e la square è lì già quella è un'azienda c'è l'indirizzo è un'entità legale il claim è che secondo lui quando noi abbiamo adottato degli hard scusami dei soft fork su bitcoin quindi lui cita proprio segvit e taproot ok introducendo queste due modifiche abbiamo alterato il protocollo originale di bitcoin che è che devia quindi dal white paper originale di satoshi nakamoto qua lui non dice più che è lui satoshi nakamoto dice solo queste due modifiche deviano dal design iniziale di bitcoin quello del white paper sul quale si basa bsv bitcoin satoshi vision quindi queste modifiche non autorizzate hanno creato per me che sono l'inventore di bitcoin satoshi vision bsv la vera versione di bitcoin che è quella che al quale si rifà al white paper originale ha determinato una perdita per me in quello che è la differenza di valore attuale tra bsv bitcoin satoshi vision e bitcoin che lui quantifica nel claim tra 50 pound bsv 48 mila pound btc che quantificata sull'impatto finale sono 911 miliardi di pound meraviglioso quindi lui meraviglioso la restituzione di 911 miliardi di pound a bitcoin core e a square e forse il trick è proprio quello cioè in questa causa qui lui non sostiene più da nessuna parte di essere satoshi nakamoto perché non può più ma sostiene di essere parte lesa in quanto inventore e questo per la prima volta nella sua carriera è vero della shitcoin bitcoin satoshi vision si esatto lui dice the true version of bitcoin represented by bsv quindi la vera versione di bitcoin che è quella che si rifà il white paper ha pagato queste modifiche non autorizzate al protocollo in questi termini ma io vorrei sapere con che soldi fa sta roba non lo so come non è fallito miseramente speravo di sì ma comunque è veramente io non so adesso vedremo se qualche giudice gli dà gli dà seguito a questo pazzoide però ci sta provando ancora incredibile veramente guy brush io sono sono proprio senza parole cioè questa qui è oltretutto è proprio la ripicca dell'orgoglio di quello che non vuole sparire in un dignitoso oblio ma questi soldi chiunque se sono suoi che qualcuno gliel'avrà dati non lo so non può usarli per farsi in una vacanza in una spa meravigliosa in un paese tropicale facendosi massaggiare le natiche no? è malato tra le altre cose secondo me a proposito di soldi secondo me quei pochi soldi che gli rimangono sono quelli che ha fottuto gli utenti di BSV che tra l'altro sono scomparsi tutti adesso sono diventati tutti caspiani esatto perché la nuova truffa è caspa quindi tutti gli shitcoiner ultranzisti sono diventati caspiani eternal settembre quando casparag pullerà tutti ci sarà sniappnia e poi dopo sniappnia ci sarà spranza questa è la prova del fatto che quando si tocca il fondo si può comunque cominciare a scavare benvenuti a idiocrasi ragazzi facciamoci seri Guybrush perché qui a questo punto dobbiamo fare servizio di pubblica utilità perché anche questo è il nostro ruolo quindi scam alert scam alert bravissimo Guybrush allora scam alert ragazzi best practice perché qui non stiamo commentando una notizia specifica ma in realtà una cornucopia di notizie perché l'anno che stiamo vivendo il 2024 pare essere Guybrush l'anno record per il phishing su bitcoin ma soprattutto sulle cripto centinaia e centinaia di tentativi di phishing più o meno elaborati milioni milioni e milioni di cripto scammate a ignari utenti dobbiamo dire che l'utente shitcoiner medio poverino oltre a non essere magari particolarmente intelligente è tendenzialmente anche più ignorante in termini tecnologici quindi è l'obiettivo è il gonzo perfetto per chiunque elabori tentativi di phishing quindi il grosso degli scam sono sulle cripto però non è vero che sono tutti lì nel senso che ci sono anche ben documentati tentativi di phishing che mirano a bitcoin e che appunto mirano ai bitcoiner la cosa più targettizzata purtroppo sono gli utenti dell'hardware wallet ledger che veramente stanno vivendo un incubo praticamente l'ultima notizia di pochissime ore fa è che praticamente è stata mandata al grosso degli utenti una email che fingendo ci siano delle presunte falle di sicurezza come sempre porta a dare le proprie chiavi private e quindi di fatto a dare accesso ai propri fondi addirittura ho letto di veri e propri ledger finti che vengono mandati agli utenti ad alcuni utenti ledger guarda caso targettizzati nelle zone più prestigiose soprattutto degli Stati Uniti quindi avendo gli scammer gli indirizzi ovviamente li mandano a uno che vive in una zona residenziale di New York immaginando che quello possa avere più bitcoin o più cripto e con una finta lettera che dice il tuo vecchio ledger è stato compromesso usa questo e ovviamente in quello che ti mandano che pare essere una copia incredibilissima c'è malware e quindi come ci caschi lì sì che perdi tutte le tue cripto perché ti chiede di reinserire le tue chiavi private e tutto questo incubo che gli utenti ledger stanno vivendo ormai da quattro anni è frutto di quel famoso hacking che vi abbiamo raccontato all'epoca eravamo nel 2020 in cui erano stati rubati tutti gli indirizzi di casa e delle email dei clienti di ledger quindi voi immaginatevi per una falla di sicurezza gravissima perché non è che la stiamo sminuendo ma quante conseguenze dannose ha e per quanti anni è una roba incredibile se ci pensi in realtà in questo settore è la normalità quindi tra le altre cose ci saranno anche un giorno non lontanissimo ormai parlo di 20-30 anni anche il cosiddetto paradigma hack now crack later cioè tutto ciò che è magari uscito in un data leak in un breach di un sito o qualcosa che non può essere magari utilizzato adesso perché gli hacker non dispongono della potenza computazionale per per craccare delle password potrebbero averla invece tra 10-20 anni quindi queste cose torneranno torneranno quindi una pratica per esempio non usare la stessa password su più siti utilizzate un password manager quando vi registrate e cambiate sempre la password in modo che si viene compromessa con la password l'hacker non può accedere ad altri vostri account e fare il cosiddetto credential staffing ma per rimanere in tema hardware wallet bravo diamo delle best practice in generale allora diciamo che per mitigare l'effetto data leak se voi avete comprato un wallet e ve lo siete fatti arrivare a casa l'unico modo con cui mitigare questo problema perché l'indirizzo glielo dovete dare potreste provare ad acquistarlo utilizzando un servizio di intermediazione postale oppure farvelo arrivare in ufficio semplicemente o in altri recapiti che non è casa vostra e più di questo in realtà non si può fare perché qua si tratta di un bene fisico che dovete ricevere in qualche modo dovete ritirare però uno può sapere che non deve mai sì invece il phishing è molto più facile da mitigare perché voglio dire scusami se ti interrompo ma fa ridere il fatto che la Ledger ti stia mandando un device nuovo out of the blue cioè tutte queste cose qua devono devono poi poverini loro sono quelli più targetizzati perché no poverini un cazzo si sono fatti rubare tutti gli indirizzi degli utenti quindi poverini un cazzo però ragazzi se vi arriva una mail che per esempio questo phishing di cui stavamo parlando in apertura praticamente ti arriva una mail finta ma fatta molto bene dalla Ledger con l'indirizzo che la Ledger si è fatta rubare l'indirizzo email e ti dice per continuare a usare il tuo Ledger devi attivare una funzione nuova che si chiama clear signing e lo devi attivare entro il primo di novembre altrimenti non sarai più in grado di usare il tuo Ledger quindi ti fa cliccare ti fa riattivare e lì rimani inchiappettato eh sì perché di base 46 milioni di dollari solo a settembre ci dice questo articolo che vi lasciamo nelle note dell'episodio la prima cosa da fare è non dare mai a nessuno anche se legittimo io vi dico questo anche se vi sembra legittimo anche se vi sembra l'azienda non date mai a nessuno le vostre password o le vostre chiavi private per averle anche un legittimo deve insistere molto deve convincervi non datele non datele mai a nessuno ma comunque scusami non c'è nessun motivo non c'è nessun motivo per cui l'azienda dovrebbe chiederti le chiavi private ma siccome io ho capito che questa cosa non funziona l'ho detta tante volte però quello che hai descritto tu è un meccanismo in cui mi fanno credere che non potrò più usufruire del mio servizio quindi lì il mio monitor non c'è nessun motivo cade la gente si spaventa dice non posso più usarlo e quindi lo fa e si dimentica di non c'è nessun motivo perché pensa a cavolo non c'è nessun motivo però forse questo è un motivo allora di base non c'è nessun non c'è nessun motivo ma io vi dico fate gettate il cuore oltre all'ostacolo non date mai a nessuno anche se legittimo le vostre password cercate di essere convinti dalla mail che vi scrive cercate di chiamare chiedere conferma se proprio volete proseguire su questa cosa di base rifiutate sempre questo genere di attività ma se proprio non riuscite perché vedo 46 milioni sono una cifra significativa capito quindi vuol dire che c'è qualcuno che insiste nel fare queste cose di base non date mai a nessuno la vostra password proprio mai nessuno 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 neanche vostra madre non dategli la password perché mi aspetto che tra qualche anno arriveranno le chiamate con l'AI della tua mamma che ti chiede la chiave privata probabilmente quindi neanche a vostra mamma date le password a nessuno mai per nessun motivo ragazzi cioè non c'è nessun motivo le vostre chiavi private sono per voi come le vostre cose più devo mettere che l'attacco invece ti mando un ledger nuovo è molto più difficile perché lì ti chiedono comunque la chiave privata ma previo un trigger una donazione qualcosa che ti può far pensare e tu dici ah madonna che seri che bravi che azienda e invece ragazzi no mai per nessun motivo piuttosto se ricevete un'email non cliccateci neanche sopra andate sul sito ufficiale verificate sempre tanto è facilissimo il certificato in modo tale perché ci sono anche i siti di phishing che vengono fatti in maniera perfetta quindi salvatevi il sito ufficiale nei preferiti in modo che andate sempre su quello e siete sicuri che sia quello legittimo non fate rispondi a quella mail se proprio dovete scrivere chiedere andate sul sito prendete l'indirizzo email ufficiale e dite ma mi avete scritto che mi si è bloccato il wallet eccetera eccetera ovviamente l'azienda ti dirà no è un phishing eccetera eccetera basta poco ragazzi basta veramente accendere il cervello detto questo volevo fare una precisazione quando tu fai un business tipo ledger non è che l'unica cosa importante che conta è il chip la sicurezza la passo così un'azienda di questo tipo deve proteggere in maniera seria approfondita tutta la filiera della sua quindi a quale azienda di marketing si affida i dati dei suoi clienti a come fa a mandare la newsletter ai suoi clienti che servizi di terze parti compra dove compra i chip dove compra cioè richiede un'attenzione fondamentale per proteggere i propri clienti cosa che la ledger in anni e anni e anni non ha dimostrato perché a parte quello lì del 2020 è un collaborodo è un collaborodo anche il 2023 hanno usato una libreria open source di quelle diciamo non delle più diffuse che aveva poi un bug che è stato che faceva credere a tutti gli utenti che i loro wallet erano stati insomma è già successa più volte con la ledger quindi mi fa pensare che questa azienda non presti particolare attenzione a questo genere di cose diversamente da altre aziende è per questo motivo Guybrush che noi ci permettiamo sempre di sconsigliare i prodotti ledger ragazzi se siete dei bitcoiner non avete nessun motivo per possedere un ledger che è un hardware wallet shitcoin quindi se siete trader che tradate ogni shit shitcoin currency possibile immaginabile siete nel vostro pieno diritto non è però allora quel punto lì è ovvio che se volete un hardware wallet che funziona e che è compatibile con tutte le cagate che la DeFi vi offre quello è il ledger se siete dei bitcoiner non avete nessun motivo per possedere un ledger e è il motivo per cui noi non abbiamo mai promosso ledger e invece promuoviamo e consigliamo Bitbox02 nella versione bitcoin only perché meno codice vuol dire meno bug potenziali perché comunque non bisogna mai fidarsi ciecamente di nessuno al di fuori di noi stessi e quindi riduciamo sempre il rischio è per questo che una versione bitcoin only di Bitbox02 riduce ulteriormente il rischio già minimo dal nostro punto di vista è un'azienda seria che investe a tutto tondo nella sicurezza dei propri clienti proprio come dicevi tu Guybrush poc'anzi e questo noi lo sappiamo perché lo abbiamo chiesto all'azienda e ci è stato detto chiaramente questo ragazzi naturalmente non riduce il rischio a zero perché è rare e umano però lo riduce sostanzialmente è il motivo per cui noi consigliamo a tutti i bitcoiner là fuori un Bitbox02 che per serietà dell'azienda per sicurezza della hardware e per trasparenza del software totalmente open source dal nostro punto di vista garantisce un'esposizione al rischio veramente infinitesimamente bitbox.swiss è il sito dove potete verificare tutto quello che vi stiamo dicendo col codice Bipshow potete acquistarvi un Bitbox02 anche col 5% di sconto settimana scorsa Guybrush puntata molto di successo ci hanno fatto un sacco di complimenti hai visto? sì 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 il nostro modo la nostra cifra stilistica diciamo è quella puntata lì ecco si condensa ogni tanto il senso che noi diamo a questa tecnologia eh sì tra le cose che sono particolarmente piaciute c'è stata quell'intervista su Bitcoin Train di David Bailey che abbiamo raccontato no? e dove appunto questo serissimo professionista esperto di marketing retail con un curriculum fantasmagorico vi ricorderete più di dieci anni in Apple e che è diventato anche un bitcoiner ci metteva Guybrush in guardia dal fatto che dal suo punto di vista concentrarsi soltanto su Bitcoin come store of value e quindi come riserva di valore e non investire proattivamente nel narrare anche l'importanza di Bitcoin come medium of exchange e quindi come strumento come protocollo di pagamento non insistere non promuovere anche quella parte e quindi non spendere Bitcoin sarebbe stato da parte sarebbe da parte dei bitcoiner un autogol clamoroso che avrebbe ci dice lui addirittura impedito a Bitcoin di raggiungere il suo pieno potenziale danneggiando quindi concretamente il futuro roseo di Bitcoin se l'avete persa andatevi ad ascoltare nello scorso episodio perché davvero è un'intervista super interessante e c'è una notizia che vorrei commentare con te Guybrush che arriva dal Salvador che secondo me va esattamente nel solco di quello che stiamo raccontando ovvero dimostrerebbe come sia come l'hotel fino alla morte sia un handicap di che cosa sto parlando sto parlando di Good Beans Coffee che è un bitcoiner che io ho avuto modo ovviamente di conoscere anche di persona e che da tanti anni è molto attivo nella twitter sfera dei bitcoiner perché ha un negozio di è una produzione di chicchi di caffè made dal 100% in El Salvador e un negozio una rivendita a pochi passi dalla bitcoin beach quindi in assoluto nella mecca del bitcoiner hai capito il luogo più visitato in El Salvador da tutti gli hardcore bitcoiner che vanno in El Salvador perché stiamo parlando di Good Beans Coffee perché lui è da tantissimo tempo vi lasciamo il tweet in questione e il suo account quindi nelle note dell'episodio seguitelo lui è tantissimo tempo che denuncia come di tutti i bitcoiner che andando alla bitcoin beach si fermano da lui a comprare caffè una piccolissima percentuale paga in bitcoin ma tutti quanti arrivano lì ah che figata il caffè bitcoin satoshi coffee mamma mia che figa io io bro io bro bro e poi carta di credito e lui dice raga questa cosa qui io ho rangepillato altri miei colleghi commercianti che però senza ricevere pagamenti in bitcoin hanno smesso di accettare bitcoin se lo sono dimenticati è inutile e lui dice e questo sta succedendo ovunque nel salvador al di fuori dei luoghi che devono accettare bitcoin perché sono la bitcoin beach l'adozione di bitcoin nel paese sta crollando e lui racconta un fatto che è verificato che ti ricordi guy brush l'abbiamo raccontato siamo andati noi stessi a provarlo quando siamo stati nel salvador che avevamo lodato come mcdonald's la prima grande multinazionale nel salvador ad accettare bitcoin in tutti i suoi punti vendita del paese con un software proprietario vi avevamo fatto vedere i tweet se ne trovo vado a ricercarli vi li metto nelle note nel chiosco c'era la funzionalità nel chiosco automatico quindi come esattamente identico a quello che c'è dai mcdonald's la cassa automatica con il display touchscreen alla fine del tuo ordine c'era paga con carta di credito oppure grosso così logo bitcoin e avevamo anche evidenziato come questa implementazione proprietaria sulla quale mcdonald's aveva lavorato e investito era fulminea una delle implementazioni del lightning network migliori che io abbia mai sperimentato in vita mia perché vi stiamo raccontando questa cosa perché ci racconta godbins e ho verificato con altri miei contatti nel salvador che mi hanno detto è assolutamente vero a causa della scarsità di pagamenti in bitcoin in el salvador nel bitcoin country mcdonald's ha smesso di supportare questa sua implementazione proprietaria nelle casse automatiche non c'è più l'opzione per pagare in bitcoin perché tanto non la usava nessuno intendiamoci però si può ancora pagare in bitcoin va detto questo da mcdonald's basta andare alla cassa chiedere all'asciura della cassa di pagare in bitcoin lei vi sbufferà in faccia perché non si ricorda come fa e il pin del tablo e che cosa tira fuori però civo wallet civo wallet de merda e capisci guybrush questo secondo me è la dimostrazione più potente che possiamo dare che quello che ci diceva david bailey è vero non voler spendere mai bitcoin e quindi non voler usare mai bitcoin neanche per comprarsi un cazzo di mcdonald danneggia bitcoin e quindi danneggia bitcoin anche come store of value chi odla e basta si sta danneggiando perché i propri bitcoin non guadagnano in valore come potenzialmente potessero se tutti insieme spendessimo 2000 satoshi al mese manco un euro hai capito allora qua c'è però un problema filosofico alle spalle secondo me che è la famosa legge di gresham cioè il denaro cattivo scaccia quello buono ovvero la tendenza naturale delle persone a conservare il denaro che si apprezza che mantiene il suo valore in maniera più efficiente e disfarsi più velocemente di quello che invece non ha questa qualità si vede questo effetto in maniera evidente plateale nelle nazioni del mondo in cui c'è l'iperinflazione quindi venezuela argentina eccetera tutti tendono a tenere i dollari e a disfarsi più velocemente di peso sbolivare ma chi sono quelle persone lì chi sono quelle persone lì normali cittadini qui non stiamo parlando di normali cittadini qui stiamo parlando di bitcoiner che dovrebbero avere capito la tecnologia e quindi dovrebbero avere capito che un dollaro al mese di eccezione alla legge di grasham gli conviene farla sì sì è vero è controintuitivo perché è più facile vedere l'impatto della legge di grasham sul tuo portafogli perché dici ok ho speso meno bitcoin bitcoin sta salendo quindi ci ho guadagnato sul lungo termine piuttosto che dire ho usato un parte di bitcoin e quella parte ha contribuito all'apprezzamento dell'altro della risorsa che ho è più è più difficile vivere questo effetto di secondo ordine piuttosto che quello di primo ordine che è semplicemente mi disfo di uno e tengo l'altro purtroppo io non vedo un al momento attuale un trend che contrasta in maniera sufficiente la legge di gresham ovvero tantissime persone ma anche a parte i bitcoiner anche tantissime persone che ho visto in vari documentari usciti in questo periodo per esempio sull'utilizzo delle stable coin dicono io quello che uso loro hanno tre valute rispetto a noi quella di merda del loro paese in cui vivono che cercano di disfarsene più velocemente possibile la stable coin di turno che è quella con cui riescono a transare tutti i giorni senza che perda valore così velocemente come la loro valuta di merda e bitcoin che utilizzano come conto di risparmio anche loro stessi dicono bitcoin preferisco tenerlo e usarlo come risparmio e uso la stable coin per le spese tutti i giorni quindi anche lì vige la legge di Gresham quindi tendono a non usare bitcoin perché è migliore rispetto a tutti gli altri mai esistiti e soprattutto ne hanno accesso perché così facendo danneggiano il loro conto risparmio per capirlo bisogna purtroppo approfondire dato che l'essere umano medio forse a causa di Temptation Island perché ce ne sarà una versione in tutti i mondi è un minus la isla della tentazione che non ha capacità di approfondimento in di ragion per cui benvenuti a idiocrasi ragazzi nemmeno bitcoin è immune a idiocrasi perché è uno strumento in mano ai residenti di idiocrasi eh sì allora cari amici come potete fare per cominciare a utilizzare bitcoin procurandovele nella maniera più semplice e sicura e leggera in assoluto noi vi consigliamo da tanto tempo ormai il servizio pocket bitcoin pocket bitcoin punto com il sito o l'applicazione per telefoni è secondo noi il modo più sicuro per acquistare spendere e conservare bitcoin anche il modus operandi è molto semplice scaricate l'applicazione o andate su pocket bitcoin punto com e potete collegare il vostro wallet esistente o utili pocket bitcoin supporta tutti gli hardware wallet più diffusi sul mercato potete anche configurarne uno che già avete o potete usare l'applicazione stessa pocket che ha tutti gli effetti un wallet custodial significa che diversamente dai bitcoin che comprereste sugli exchange non comprateli sugli exchange qua invece in maniera diversa siete possessori delle vostre chiavi private quindi siete gli effettivi possessori dei vostri bitcoin generato un ordine di acquisto per la cifra che più vi aggrada fino a un massimo di 900 euro al giorno secondo l'enge svizzera vi verrà fornito un IBAN bancario e un codice causale e quando voi effetterete il bonifico e il pagamento arriva a pocket bitcoin viene immediatamente convertito in bitcoin e lo vedrete disponibile sulla vostra app o sul vostro wallet automaticamente diciamo verrete notificati via email perché l'email è l'unica cosa che vi si chiede di fornire in fase di registrazione quindi pocketbitcoin.com bitcoin disclosure program che saleh saleh che saleh cosa l'è sta roba allora è una cosa interessante che è accaduta quest'estate mi ero ripromesso di raccontarvela ed ecco finalmente è arrivato il momento perché bitcoin core a parte essere una scritta fumosa nel claim di Craig Wright è un progetto open source alla quale possono partecipare tantissime persone e come tutti i progetti open source ha dei problemi ci possono possono succedere delle cose possono essere scoperte delle vulnerabilità possono essere pubblicate delle vulnerabilità e in generale nei software open source si tende a creare si è teso negli anni a creare uno standard per questo genere di attività la disclosure program il disclosure program significa come facciamo a comunicare ai nostri utenti eventuali bug eventuali problemi eventuali aggiornamenti che non sono diciamo inerenti a il consenso il protocollo tutto quello di cui parliamo da tanti anni soft fork mettiamo i covenant ma sono meramente parte dell'utilizzo quotidiano del software quindi c'è un problema il bitcoin crasha se riceve un messaggio fatto di questo tipo per tutti i software funziona così c'è uno standard che si chiama CVE che significa common vulnerabilities and exposures vulnerabilità ed esposizioni comuni adesso ultimamente tra l'altro lo stanno adottando anche i governi quindi in Italia abbiamo il consiglio di sicurezza internazionale adesso non mi ricordo come si chiama comunque c'è un ente governativo che si occupa di comunicare ai cittadini perché finalmente c'è un po' di consapevolezza sulla sicurezza informatica comunicare ai cittadini eventuali vulnerabilità significative per quanto ha il XIRT ecco come si chiama XIRT riguardo i software che utilizzano e utilizzano anche loro lo stesso standard CVE a luglio anche bitcoin ha iniziato ad adottare questo standard cosa significa che periodicamente gli sviluppatori c'è l'annuncio se volete trovarlo nelle note dell'episodio l'annuncio dell'inizio di questa nuova pratica periodicamente gli sviluppatori pubblicheranno dei report su bitcoin.org bitcoincore.org in cui diranno ok nella versione 22 è stata scoperta questa vulnerabilità il suo impatto è basso quindi è difficile da sfruttare per un utente malevolo oppure è critico questo bug potrebbe mettere a repentaglio l'utilizzo di tutto il software del vostro nodo e così via di release in release la sensibilità su questo tema sta nel fatto che quando si scopre una vulnerabilità è buona pratica non pubblicarla subito perché bisogna dare il tempo agli sviluppatori di correggerla e agli utenti di aggiornarsi con l'eventuale correzione se lo fai troppo presto troppo in fretta pubblichi anche un'informazione che un utente malevolo potrebbe sfruttare a suo piacimento quindi si è creato uno standard per il quale vengono pubblicate le vulnerabilità di almeno tre versioni indietro quindi in questo momento in cui vi parlo che siamo alla 28 sono state pubblicate tre vulnerabilità significativamente impattanti della versione 25 ecco perché se qualcuno si è accorto su twitter una settimana scorsa ho detto vabbè mi aggiorno anch'io perché ho aggiornato il nostro full node ricchi perché eravamo alla 22 quindi era troppo pericoloso ancora non tanto perché i nostri fondi fossero a rischio a rischio quanto perché ho visto che effettivamente il nodo era crashato e sono uscite delle diverse vulnerabilità per il quali diciamo emettendo dei messaggi nel network bitcoin nello scambio peer-to-peer dei messaggi c'era la possibilità di inviare un messaggio che facesse crashare tutti i full node precedenti alla versione 25 e credo che sia successo perché il nostro node è andato offline in diversi momenti a un certo punto ho indagato sono andato a leggermi i security advisor che trovate sul sito bitcoincore.org ed effettivamente ce n'erano diversi che hanno iniziato ad essere utilizzati in the wild si dice quindi c'è qualcuno che ha interesse a far crashare i nodi più vecchi in realtà poi dopo guardando devo dire che gli utenti di bitcoin perlomeno sui tatti che riusciamo ad avere che sono quelli pubblici sono abbastanza solerti nell'aggiornare le proprie versioni dei full node perché a parte il nostro i nodi versione 22 erano una percentuale non in grado di mettere a repentaglio il network meno male se tutti fossero se tutti fossero stati 22 se tutti fossero stati come te come me sì che io ho la tendenza ad aggiornare con lentezza per nesta sappiamo che sei un uomo a riga di comando tu e lo abbiamo raccontato a più riprese no ma più che altro perché ho dovuto compilare bitcoin su due versioni di separate ci ho messo insomma due giorni per fare questo aggiornamento alla fine ce l'ho fatta questo è una bella notizia perché intanto si delinea ci sono voluti tanti anni però come vi raccontiamo spesso lo sviluppo open source soprattutto in una questione delicata come bitcoin è un pochino più lento rispetto allo sviluppo aziendale di una seppur open source magari però controllato da un'azienda è un pochino più lento bisogna mettersi d'accordo bisogna dire ok chi li fa sti advisor chi li raccoglie chi li legge chi li revisiona insomma ci ha voluto 15 anni per arrivare a questo punto ma ci allineiamo con quello che sono le grandi entità open source del del mondo dell'informatica per esempio linux è gestito così tutte le varie distribuzioni di linux debian ubuntu redat non so se le hai mai sentite le avete sentite fanno così da anni quindi hanno un ciclo di rilascio periodico con una certa periodicità quindi magari quello di bitcoin è di sei mesi o può essere di un anno e ogni sei mesi vengono rilasciate le vulnerabilità dei tre cicli precedenti quindi una sorta di formalizzazione che ci fa capire che il progetto anche dal punto di vista dello sviluppo sta maturando è più difficile perché mi rendo conto che le persone che lo fanno si prendono una certa responsabilità insomma Antoine Poincot è quello che ha diciamo delineato le prime le primissime linee guida mutuandolo ovviamente da linux perché ma essere dei rivoluzionari è una grande responsabilità Guybrush sì però mi metto nei panni di se dovessi farlo io io già sono uno che si agita se dice una cazzata in un podcastino figurati a rilasciare le vulnerabilità del nuovo sistema finanziario globale guarda ti ricordo che chi ci ascolta sta aspettando il tuo bip certo certo non so se ancora adesso comunque è tutto spiegato e raccontato il life cycle del software come vengono giustite le versioni come vengono fatte le patch eccetera eccetera c'è anche lo schedule quindi voi potete vedere per esempio che la 28 è stata rilasciata il 2 ottobre quindi ho aggiornato abbastanza in in tempo e è mantenuta quindi non verranno rilasciate le vulnerabilità fino alla 30 ok quindi da adesso tu avrai un che ne so un anno e mezzo un anno e mezzo in cui dici ok a meno che non venga qualcuno a trovare una vulnerabilità non documentata è così e poi ci sono le schedule per le prossime release l'end of life tutto fatto secondo i canoni dell'open source molto bello Guybrush molto bello senti prima di passare oltre c'ho un paio di notiziette carine che secondo me sono delle buone notizie vanno vale la pena menzionarle nell'ultima parte di questa spumeggiante puntata odierna la prima notizia Guybrush ci arriva dall'università Cornell statunitense situata a Itaca nello stato di New York e membro della Ivy League quindi mica cazzi la Ivy League è quel gruppo di università statunitensi che rappresentano il top del top del top degli atenei americani del resto la University Cornell stavo leggendo o preparando la puntata nella sua esistenza abbastanza lunga fondata nel 1865 per gli Stati Uniti è tanto vanta qualcosa come 40 premi Nobel e 2 premi Turing più altre tante altre cose quindi niente male non un'università di seconda fascia perché ne dobbiamo parlare perché quest'anno ha annunciato che praticamente avvia un progetto di ricerca focalizzato sull'evidenziare le connessioni fra la libertà finanziaria e bitcoin quindi capisci niente male potrebbero ascoltare un po' di puntate ma hanno tanto materiale a cui accedere anche perché ciò che è un tema che abbiamo affrontato in diverse puntate certo anche qui tanto per cambiare c'è lo zampino della Human Rights Foundation che contribuisce a finanziare questo progetto che è un progetto da un milione di dollari destinato a durare fino al 2027 l'annuncio viene dato dagli accademici e dal rettore dell'università in Pompamagna verranno affidati a questo studio tutta una serie di blasonati ricercatori interni alla Cornell University e tutta una serie di esperti della Human Rights Foundation che aiuteranno l'università a focalizzarsi su quei paesi che appunto offrono più materiale per documentare questa ricerca uno dei capi di questo progetto sarà il professor Krebs che ci dice appunto che all'inizio il progetto si focalizzerà su circa 12 paesi tra cui India, Nigeria, El Salvador, Indonesia e Turchia e quindi comunque è una bella notizia perché appunto è un'università blasonatissima e quindi comunque è importante che un'istituzione con questa credibilità avvii un progetto e che poi ovviamente pubblichi man mano i risultati in modo tale che possa dimostrare al mondo che quello che cazzo diciamo a questo microfono da tanti anni non è il sogno malato di due mentecati del nord Italia situati in una località misteriosa del nord Italia capisci? Porco Diaz sono anni che ci facciamo il culo così girando il mondo facendo vedere a sti beoti occidentali che questa cosa qui non è un cazzo di azione o speculazione ma è anche e soprattutto molto di più in questo senso va anche Guybrush un articolo recentissimo di Forbes scritto dal giornalista che copre Bradley Rettler si chiama che copre Bitcoin racconta Bitcoin per Forbes che pubblica un bellissimo articolo che racconta come il CoinJoin aiutano concretamente i dissidenti e le proteste pro democrazia e quindi aiutano a combattere i regimi autoritari che usano gli strumenti finanziari tradizionali come strumento coercitivo per reprimere il dissenso le minoranze e per quindi sostenere tutte le loro le loro autocrazie i loro governi dittatoriali l'articolo ve lo lascio nelle note dell'episodio è un articolo molto lungo che racconta cose che chi ascolta il Bitcoin Italia Podcast con dedizione conosce a menadito quindi non sto qua a ripetervele però fa degli esempi palesi concreti alcuni anche nuovi di dove molto recentemente il sistema bancario è stato usato per reprimere le proteste gli scioperi le manifestazioni antigovernative e parla proprio anche questo di come i CoinJoin sia uno strumento utilissimo per difendere le libertà individuali anonimizzando i pagamenti digitali a mezzo Bitcoin raccontando anche dell'ipocrisia degli Stati Uniti d'America e quindi del processo che vi abbiamo raccontato anche noi contro samurai eccetera 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 Erlinghoff Bitcoin Fog ce n'è ormai esatto esatto quindi ripeto tutte cose che per noi e per voi che ci ascoltate spesso non sono una novità però è un documento in più importante soprattutto che esce da una rivista da un sito importante e quindi questo rientra e secondo me per questo che era degno di nota in questo episodio Guybrush rientra nel discorso che stiamo facendo sempre più spesso fortunatamente ultimamente forse c'è un cambio di narrativa alleluia sì 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 è vero guarda l'articolo su Forbes lo ha scritto Bradley Retter che è quello del Bitcoin Research Institute dell'Università del Wyoming che vi avevamo annunciato all'inizio dell'estate e loro devo dire si stanno molto impegnando per andare a scrivere su dei media convenzionali dei concetti che vabbè come dici tu per noi sono scontati da anni ma per la massa no quindi è una bella cosa questo fatto di sdoganare il termine coin join spiegare che cosa significa la resistenza alla censura dove c'è bisogno di resistenza alla censura perché io l'ho letto l'articolo e ho visto che non è il meccanismo visto dal punto di vista tecnologico non è descritto correttamente si potrebbe parlare di pay join si potrebbe parlare di coordinamento di queste cose ma questo non era l'intento è divulgativo quindi il fatto di dire esiste una tecnologia che aiuta persone che sono obiettivo di censura che sono diciamo perseguitati politici e tra l'altro mi piace anche quando dice se non ne hai bisogno tu perché sei privilegiato che vivi dove la tua cazzata puoi dirla comunque puoi comunque partecipare a questa rivoluzione se proprio non hai bisogno di fare un coin join puoi aggiungerti a un coin join aumentare l'anonimity set l'anonimità e aiutare a proteggere le persone in altre parti del mondo che te ne saranno sarebbero sicuramente grati quindi questa è un po' una piccola call to action che va nella direzione di quello di cui dicevi settimana scorsa che diceva David Bailey cioè non dire all'utente cos'è il coin join digli cosa può fare con il coin join e questo effettivamente è il cambio di narrativa che dicevi c'è una luce di speranza qui a idiocrasi qui amico mio bip.show è il nostro sito internet lì trovate oltre alla funzione cerca usatela anziché scriverci quale puntata dove trovo eccetera eccetera lì c'è anche la sezione supportaci dove potete supportare il bip show con un acquisto su amazon partendo dal nostro link sponsorizzato basta un click ogni volta che andate su amazon iniziate da lì e tutto ciò che poi acquisterete ci verrà devoluto a una piccolissima percentuale ma it's ok donazioni fiat a mezzo paypal e poi le nostre preferite lightning sats on lightning o sats on chain scegliete voi quanto donare scegliete voi ogni quanto donare ciò che conta è che se capite l'importanza del nostro podcast come strumento divulgativo per raccontare bitcoin agli italiani dovete sostenerlo perché è anche grazie alle vostre donazioni che noi siamo qui puntuali tutti i giovedì alle ore 17 se poi siete i top donor avrete anche l'onore accademico di essere elencati come mecenate dell'episodio proprio come bardo e la sua donazione guybrush da 43.210 satoshi 43210 lol bardo ci fa molto ridere il lightning network vi consente di fare anche queste lollate pazzesche qui quindi provatelo facendoci una donazione mandateci dei numeri strani di sats sul lightning network usando appunto la nostra funzione supportaci lightning ma bardo grazie mille a te per la tua generosità sei il mecenate del 36esimo episodio della sesta stagione del bip show per te l'onere e l'onore di vedere il tuo pseudonimo scolpito nel travertino digitale delle note dell'episodio mecenateci le curiosità del professor Guy Brasciazzi allora Ricchi per la curiosità di questa settimana restiamo in tema arte perché avevo riunito diverse curiosità su questo tema e vi parlo di Andy Bauk che nel 2017 nel nottano 2017 aveva creato una serie di opere per una sua mostra un'esibizione che aveva intitolato New Money nuovo denaro che è proprio come descriviamo da tanto tempo alcuni di questi quadri sono dei mosaici fatti con i Lego dei mosaici che apparentemente mostrano un pattern colorato poi potete andare a vederli nelle note dell'episodio ma a un certo punto lui durante la mostra ha detto che il concept dietro questi mosaici colorati fatti di Lego era il fatto che il quadro non portasse un valore simbolico o un valore diciamo dettato da il mercato gli agenti la domanda se è bello se piace o se no ma portasse un valore intrinseco e annunciò che in questi quadri era codificata una chiave privata di bitcoin che poteva essere esatto che poteva essere sbloccata sono una serie di fammi vedere peta che te lo dico con più precisione otto quadri quindi otto chiavi private che sono state decifrate tutte non prestissimo devo dire perché lui ha fatto questa esibizione nel 2017 l'ultima è stata decifrata nel 2019 e quindi risolvendo cercando di capire il significato matematico di questi mosaici di Lego alcune persone sono riusciti a sbloccare 0,16 bitcoin 0,21 bitcoin 0,19 bitcoin quindi cifre che ai tempi erano ma oggi sono significative è molto bello il concept che sta dietro al fatto che l'opera d'arte portasse con sé codificata del valore del valore di assoluta scarsità digitale sotto forma di chiave matematica quindi questo era il concept un giorno potremmo approfondire su come funzionano come funzionano queste codifiche perché sono sicuro che molte da casa se lo chiedono allora tu sapresti spiegarlo sì sì certo allora sono tutte spiegate io nel tempo diciamo che nel tempo breve della curiosità del prof no no diciamo una sezione apposta però sì sì volendo vi posso spiegare l'algoritmo segnatela nel tuo tacuino come argomento per i prossimi episodi perché secondo me è curioso sì 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 è vero la codifica è un codice colore poi chi ha uno delle persone che ha decifrato il codice all'interno di questi quadri ha pubblicato il suo dopo ovviamente aver ritirato il bitcoin ha pubblicato il suo modus operandi il suo studio quindi nel tempo della curiosità leggetevelo se volete poi se volete ci torniamo e vi racconto uno di questi metodi bellissimo Guybrush grazie mille ma io mi chiedo alla cornelli university avranno anche 40 premi nobel ma lo sanno che il professor Guybrush anzi ce l'abbiamo solo noi cazzo solo noi show chiocciola bip punto show è la nostra email usatela perché è il modo migliore quello più efficace per mettervi in contatto con noi non usate i messaggi privati sui social media perché siamo inondati da spam salutiamo Elon Musk che è la sua grande capacità imprenditoriale grande Elon grandissima numero uno come funziona bene X quando ci sei tu una meraviglia però però ciò nonostante continuiamo ad essere su X twitter tutti gli altri social network bip underscore show caro Guybrush seguiteci se non lo state già facendo perché comunque ci tocca usare anche quelli mala tempora currunt caro amico mio senti Guybrush stiamo in conclusione stavolta è davvero finita e io ti posso dire che nonostante idiocrasi nonostante la stupidità della gente si l'induca inesorabilmente a guardare il dito sai dove guardiamo noi quando il saggio guarda il dito no scusa quando il saggio indica dove guardiamo noi dove guardiamo dove guardiamo noi Guybrush dove guardiamo guardiamo to the moon ciao 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 Grazie a tutti.